Nel Vancello di oggi preso da Marco al capitolo settimo dal versetto 24 e seguenti leggiamo Una donna la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro appena seppe di lui andò e si gettò ai suoi piedi. Una donna straniera sirofenicia ha una figlia posseduta da uno spirito impuro la sofferenza per quella figlia la spinge a chiedere aiuto ad andare oltre il recinto della sua appartenenza si rivolge a Gesù che risponde in un modo stucchevole lascia prima che si sfamino i figli non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Gesù si oppone alla sua richiesta perché sa che è venuto per i figli di Israele e non per i cagnolini. Questo infatti era il nome con cui venivano chiamati gli stranieri. A questa risposta la donna non si arrabbia non se ne va afflitta subendo passivamente l'umiliazione ma replica dicendo sì signore ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. La tenacia della preghiera di questa mamma di fronte alla sofferenza della figlia è esemplare. La donna non pretende non impone la sua volontà ma espone la sua sofferenza si accontenta di poche cose delle briciole della grazia. Allora Gesù le dice per questa tua parola va il demonio è uscita da tua figlia e in quell'istante la bambina coricata sul letto si vede abbandonata dal demonio. Con la guarigione della figlia della donna sirofenice Gesù comincia ad allargare il suo ministero. Non è solo Israele che deve salvare ma l'umanità intera. La donna seppur straniera si sente veramente figlia di Dio, esprime la sua fiducia in Dio e in tutto ciò che lui può compiere. Per il Signore Gesù noi non siamo briciole ma contiamo sempre. Lui è venuto per tutti a portare guarigione e salvezza. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.